Se l'affermazione in Coppa contro il Barletta era un avviso, il successo esterno sul difficile campo dell'Angri è la prova della pericolosità del Bitonto. Come sette giorni fa il Puttilli è ancora tedesco a gonfiare la rete per Inroverdi, che, al netto di un palo colpito praticamente da zero metri, porta questa volta in dote tre punti utili per cominciare nel miglior modo possibile il campionato. Valeriano Loseto cambia due pedine rispetto all'undici che ha prevalso i rigoli sul Barletta, c'è Mazzarano in fascia per l'altro Ander Fioretti e un gredda per grumo a centrocampo, intoccabili in avanti tedesco e figliolia in attesa del possibile ritorno di palazzo, in panchina l'altro rientrante Clemente. E tra le campane più insidiose del G1A calangri di Stefano liquidato, grigio-rossi in campo con il 4-3-3 guidato da Fabio Longo tra i migliori marcatori della passata stagione, ai suoi lati l'altro ex a fragolese Celiento e Lander Ascione. Come in Coppa il Bitonto sfogge una partenza più che convincente. Sesto minuto, Navas pennella da destra, tedesco sfrutta la leggera marcatura di De Marco per battere Scarpato con il piattone. 1-0 Bitonto, seconda marcatura stagionale per l'attaccante Brindisino e feeling con gli esordi di campionato confermato. Lo scorso anno impiegò appena tre giri di lancette per aprire Gladiator Barletta. È squadra tosta Langri, ben organizzata e con un reparto offensivo di tutto rispetto. La prima bisaglia verso la porta di Diamè è questo colpo di testa di Marasco a 8 per centimetri. Si mette in moto Fabio Longo, colpo di testa da corner di poco alato, poi veste i panni dell'assistman ma nessun compagno riesce a correggere in rete il suo traversone. I campani fanno la partita ma il Bitonto laggia segnali ogni volta che mette il naso oltre la metà campo. Tedesco raccoglie il colpo di testa impreciso di un gred ma cestina così, palo e angligraziato. Nella ripresa liquidato laggia nella mischia il sogno estivo del Manfredoni a Mansur per Celiento, aumentando il peso offensivo dei grigio-rossi. Marasco scuscia sulla destra in becca a Longo, brava e coraggioso di Amen non stoppare l'attaccante. Prova a far male di rimesse il Bitonto. Capovolgimento di fronte rapidissimo, chiuso la tirocross di Figliolia che non trova per centimetri la spaccata di Tedesco. Lo spirito del Bitonto di Valeriano Loseto viene fuori dal finale, chiudendo tutti gli spazi e limitando l'indice di pericolosità dei padroni di casa. Langri non riesce a perforare la cerniera difensiva nero-verde affidandosi esclusivamente alle conclusioni da fuori. Ci prova prima Giorgio dal limite, parasta semplice per Diamè, poi la volta dell'altro subentrato Chiaic sparare a salve. Non succede altro al Pasquale Novi. Il Bitonto vince e come di consueto accade convince. La mina vagante del Gione H mette in tasca i primi tre punti della stagione e si appresta a fare il suo esordio casalingo. Tra sette giorni Figliolia e Compagni ospiteranno al Comunale di Bitetto il Martina.